Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo gameplay qui su Zotac Vlogs Allora ragazzi ho appena tolto il ponticello che abbiamo fatto l'altra volta, lo metterei qua Perché qui non aveva molto senso, almeno qua serve a qualcosa Allora, abbiamo appena finito la prima notte e i nani sono belli carichi per lavorare Quindi allora fatemi vedere un attimo a che punto siamo Qui dovremmo craftare un po' di cose tipo il tetto, possiamo anche cominciare a farlo E quasi quasi farei anche la pickaxe Cominciamo però a mettere un po' di muro qua Così diamo una parvenza del fatto che ci sia un po' di protezione al di fuori del nostro rifugio Anzi adesso cominciamo a craftare ancora un po' di muri, ne facciamo un bel po' E poi devo anche avere un po' più di legno, quindi cominciamo a fare un bel po' di muro Così almeno poi più avanti ci chiuderemo dentro Ok, allora ho bisogno di legno, quindi andate a tagliarmi il legno Per cortesia Così almeno adesso cominceremo anche ad allargarci un po' Perché dovrebbero arrivare a breve altri nani, quindi c'è bisogno di spazio Intanto la prima notte ragazzi è passata benissimo Perché non ci sono stati altri attacchi dopo quelli che avete visto la volta precedente Quindi nessuno ha cercato di distruggermi la casa Ok, allora il legno dovrebbe arrivare a breve Grandissimi Così vi voglio ragazzi Belli pimpanti Lavoro di squadra Ok, è arrivato il legno Quindi direi craftiamo subito altri pezzi di muro Così almeno li aggiungiamo Ecco qua, altri tre pezzi di muro Perfetto E li mettiamo qua davanti Aspetta che non riesco a selezionarli Qua Ok E questo lo mettiamo Anzi no, aspetta No, allora lo metto via un attimo Andiamo un attimo a vedere a che punto siamo con il letto No, volevo dire il tetto, scusate No, manca un po' di foglie Quindi dovete prendermi un po' di foglie ragazzi Magari qua Speriamo che questi alberi droppino qualche foglia Perché ho bisogno per fare il tetto Così almeno possiamo anche avanzare Nell'albero di crafting Intanto questo muro lo mettiamo qua Magari così cominciamo a chiuderci un po' dentro Ok Ah però adesso dà fastidio Cavolo al passaggio Vabbè Bisogna fare un po' un compromesso Per il momento non abbiamo ancora le porte Quindi dovranno saltare un po' il muro Adesso vediamo Magari se dà troppo fastidio lo levo poi Ah ok perfetto Ha droppato una foglia Perfetto Adesso aspettiamo che I nani ce lo portino Al nostro rifugio Ottimo Ok allora Intanto andiamo a vedere Che potrei cominciare a craftare anche qualcosa Proprio per i nani Tipo questa Stone pickaxe Va benissimo Quindi c'è bisogno di pietra e legno Da disporre in questo modo Quindi Facciamo subito un piccone Così almeno sono anche più veloci a scavare la terra Adesso dovremo anche cominciare Ad allargare il nostro rifugio sotterraneo Questo lo darei ovviamente al miner Che è già Ok ottimo Dicevo è già avvantaggiato a fare il miner Quindi abbiamo sbloccato la stone axe Perfetto Una bella ascia Che adesso più avanti la faremo Ovviamente aumenta la La velocità a tagliare gli alberi Intanto I nani stanno portando la legna Però noi cominciamo anche a scavare Perché ho bisogno di altra pietra Quindi non la voglio togliere questa qua Perché altrimenti ci va giù tutto Insomma ci leva protezione Andremo a scavare questa qua sotto Perfetto Sta usando la sua Il suo piccone che l'abbiamo appena fatto Quindi ovviamente vedete che è più veloce Poi man mano ovviamente crafteremo di tutto a tutti Però per il momento lo lasciamo lui Che è già un miner Quindi è già più veloce Allora mentre lui scava Io comincerei a craftare un po' di scalette Perché altrimenti Come sapete I nostri nani poverini scivolano E quindi si possono anche fare male E quindi mettiamo un po' di scalette Così almeno se ne possono servire A salire e scendere dalla miniera Che stiamo facendo Ecco come non detto È già scivolato Però fortunatamente era basso Quindi non si è fatto niente Ok stanno mettendo già le scalette Intanto cominciate a scavarmi anche tutta questa pietra Perché ne ho bisogno Per farvi appunto I vari utensili Ok abbiamo anche fatto la missione Del collezionare 5 pietre Non avevamo ancora cominciato a scavare Veramente la pietra Ok adesso continuiamo a fare Un po' di scalette Perché le scale ragazzi Non sono mai troppe Se volete esagerare a fare qualcosa Fate scale Perché servono sempre e comunque Ha anche cominciato a piovere Come vedete Quando piove praticamente I buchi Le fenditure Si possono riempire d'acqua Anche in pianura Si creano appunto Delle pozze E io quasi quasi Adesso questo nano Ha messo giù la scaletta Quindi io andrei A craftare Vedere a che punto siamo Con il tetto E che cosa ci vuole Ok abbiamo Perfetto Abbiamo adesso Le foglie necessarie Farei Un po' di pezzi di tetto Ne posso fare solo un blocco Da tre E lo piazzerei Proprio sopra All'apertura del nostro rifugio Così almeno L'acqua non entra Non è che sarebbe qualcosa di grave Però comunque da già più senso Di protezione Certo stanno crescendo Queste foglie Che adesso i nani Ovviamente le toglieranno Perché altrimenti Non riescono a passare Come vedete Ha già cominciato Almeno ci danno anche foglie Ottimo E lui sale E ci mette il tetto Perfetto Allora Vediamo cosa abbiamo sbloccato Abbiamo sbloccato L'elmetto di legno Per i nostri nani Adesso andremo a craftarlo Però come mai Mi l'ha messo così Così sbagliato Cioè non dovrebbe essere Fatto così Dove essere che c'è qualcosa Che ha dato fastidio Non è riuscito a mettere il tetto Infatti così È giusto come dovrebbe essere Ma questo è sbagliato Adesso gli dico Di tagliare queste foglie Qua sotto Voglio vedere se cade il pezzo Dove essere che È successo qualcosa Per cui non è riuscito A metterlo bene Ok Adesso dovrebbe riprendere Esatto Dovrebbe riprendere il tetto E riportarlo qui Così noi potremo riprenderlo E dirgli di metterlo bene Ok Intanto Questo lo tagliate E mi prendete Anche queste rocce qua Che ne abbiamo ancora bisogno Ok Anzi no Soltanto questa Così almeno lì Possiamo metterci le scale E così cominciamo a scendere Anche in profondità Per trovare Tutte le altre cose Nascoste al di sotto Del suolo terrestre Mettiamo ancora un po' di scale Le mettiamo qua Così almeno Li accompagniamo giù Tanto qua mi dice che non può metterlo Cavolo Come mai Vediamo se riescono Lo rimetto lì Magari c'è stato qualcosa Che non Li ha Ha creato problemi Oh Intanto abbiamo trovato Anche un tesoro Un libro Praticamente È il Clumber Book Cioè praticamente Aumenta la capacità Di arrampicarsi Quindi adesso Andiamo a darlo a qualcuno Vediamo qua Allora Equip Allora Questo è un Miner Cook Ma io lo darei quasi al Miner Così almeno Jacket deve entrare in profondità È anche più veloce Ad arrampicarsi sui muri Facciamo Use Perfetto Come vedete Ha aggiunto la professione di Climber Dato che nessuno dei tre Era già un Climber La mazza Intanto la diamo Al Cuoco Così almeno Anche lui È più forte Contro i nemici No niente Qua proprio non lo mette Quindi io direi Togliamo questo E glielo metto sotto Così almeno Riesce ad arrivare Probabilmente non riesce Proprio ad arrivarci Adesso togliamo il muro Lui lo riporta A casa Cioè dove c'è la bandierina Questo me lo togliete E Adesso glielo metto Qua sotto Così almeno Riusciamo a creare un gradino Per farlo entrare Tanto qui sta diventando Buio E piove ancora più forte Ok adesso infatti Ce la fa Ottimo Perfetto Perfetto Come vedete L'acqua non riesce A oltrepassare Il tetto Si ferma prima Ovviamente Non riesce a creare Delle pozze Al di sotto Dello stesso E così almeno Non ci entra l'acqua All'interno del rifugio Allora intanto Io andrei a craftare Per i nostri Tre nanetti Il wood helm Così almeno Gli creiamo Il loro primo elmo Di legno Così almeno Cominciano ad essere Un po' più corazzati E protetti contro i nemici Fortunatamente Ho giusto tre foglie Così almeno Possiamo crearne tre Ok perfetto Adesso andiamo a equiparli No sbagliato Qua dentro Allora uno Ok Ok perfetto Abbiamo fatto anche Il task complete Ci hanno 20 esperienze E abbiamo sbloccato Anche il simple bed Che è un letto Molto più efficiente Di quello di foglie Direi Ok Due E tre Come vedete Adesso i nostri tre nani Sono più corazzati E hanno equipato Il loro elmo di legno Ok allora Adesso io direi Cominciamo a mettere Un po' di torce Ne mettiamo Una qua a sinistra Del muro E una qua a destra Così almeno Facciamo un po' più di luce Ok Fatto E poi mi togliete Questo che dà fastidio Tanto lì è inutile Intanto ha anche Smesso di piovere Ed è scesa la notte Però comunque Questa volta Non starò qua Con l'ansia A fare entrare Dentro i nostri nani Perché tanto Comunque dovremmo riuscire A respingere Un eventuale attacco Perché abbiamo tutti La salute massima Intanto però Vorrei cominciare A craftare il letto Questo qua Un po' più Performante Per il nuovo nano Che ne arrivo Perché tanto Siamo quasi a livello 4 Quindi tra poco Dovremmo livellare E dover ospitare Un nuovo nano Ok Letto fatto Però Devo allargare Il rifugio Altrimenti qua dentro Non ci sta Facciamo scavare Un po' I nostri nani Così appena Appena abbiamo lo spazio Ci mettiamo il letto Tu portami un po' Di legno Perché Non ce n'è mai Abbastanza Di legno Oh abbiamo trovato Anche una moneta D'oro Scavando Perfetto Queste sono quelle monete Che vi dicevo Che servono per Comprare Al negozio Che c'è qua di fianco Sulla sinistra Tanto qua sotto Non è riuscito Devo fargli mettere Un po' di Di muro Qua sotto Perché altrimenti Non riesce ad arrivare Pensavo che Riuscisse a Scavare Anche quei due blocchi In realtà Ecco stanno anche arrivando Gli scheletri Però come dicevo Stavolta Non li farò entrare Perché tanto Riusciamo Dato che Stiamo tutti Con energia massima Al massimo livello Di vita Quindi Dovrebbe bastare Cioè dovremmo Respingerli senza Nessun problema Ok adesso Scavatemi anche Questi due Adesso dovreste Riuscire a farceli Mettiamoci anche Una torcia Così almeno Aumentiamo la luce Ok grande nano Che comincia A respingere Gli attacchi Ok l'altro Con la clava Devo anche Fare un'altra clava Per il mago Perché È l'unico Senza la clava Per il momento Ecco bravo Minatore vai Anzi Minatore è quello sotto Quello allora È il cuoco Ok Perfetto Abbiamo livellato Quindi ci danno Il nuovo nano Eccolo qui Andiamo a vedere Che cos'è È un climber Ok Quindi molto probabilmente Li farò imparare Anche la professione Da minor Appena troviamo un libro Intanto attaccate I mostri che arrivano Difendiamo Il nostro Il nostro rifugio Alla grande Grandissimi Sono troppo Fighi ragazzi Ok Prendetevi ancora Anche del legno Perché Ci serve No È sceso il ragno Che schifo Uh Intanto ha cresciuto Anche un albero Qua di fianco Quindi togliamo Da qua E gli dico Di prenderlo da qua Così almeno Sono più vicini No Arriva un fantasma Rompipale Questi prendono Le cose Le buttano via Però È praticamente Innocuo Ok Abbiamo ucciso Ok Prendetemi il legno Da qua Però se qualcuno Riesce a portarmi giù La torcia Sarebbe meglio Cos'almeno poi Togliamo Il pezzo di legno Vediamo se qualcuno Ce la porta giù Ah Eccolo qua Eccolo qua Che sta portando Perfetto Ok Ora Toglietemi Questo E siamo A cavallo Ok Allora Adesso abbiamo Anche il nostro Spazio Che cercavamo Per mettere Il nuovo letto Per il nano Appena arrivato Ok Lo mettiamo qua sotto Nella barra Così adesso Lo possiamo mettere Lì E lo metterei qua Ok Adesso Prendo il nano Che passa Dovrei portarcelo giù Ah proprio Il diretto Interessato L'ha preso Il nano nuovo Ok Lo sta portando giù Eh Tutto mi comodo Ok Fatto Adesso Vediamo Cosa abbiamo Sbloccato No La wooden chair Perché dobbiamo Prendere anche Le altre cose Adesso dovrei Craftare L'ascia Per tagliare La legna La facciamo subito Così almeno Poi possiamo Sbloccare Anche il tavolo Il tavolo serve Ragazzi Per dare da mangiare Ai nostri nani Che adesso Cominceranno anche Ad essere affamati Perché altrimenti Senza un tavolo Non possiamo mettere Intanto Allora Lasciala Do al Kleinberg Ma si Ah ecco Andava messa lì Dunque dicevo Che Il tavolo serve Per metterci il cibo Eccolo qua Lo facciamo subito Perché altrimenti Senza il tavolo Non possiamo Dar da mangiare Ai nostri nani Perché non possiamo Mettere del cibo Sul loro tavolo Quindi è come se Non potessero arrivare A prenderlo Ok fatto Però adesso La mettiamo subito Sotto in barra Però dobbiamo Allargare ancora di più Il nostro rifugio Altrimenti Non c'è spazio Per un tavolo Ok così Cominciamo Cominciamo a scavare Un po' di sabbia Come vedete Che serve anche Quello lì Per la quest La sabbia Funziona un po' Come in In minecraft Cioè Dovete stare attenti Ad arrivare sotto Un blocco di sabbia E a scavare direttamente Al di sotto di questo Perché vi cade addosso La sabbia Quindi dovete stare attenti A non seppellire Vivo un nano Insomma Ecco come vedete Adesso lui ha tolto Vedete che c'è Quell'effetto di sabbia Che sta per cadere Fortunatamente non c'è nessuno sotto Adesso cadrà Quindi non sto neanche Ok caduto Adesso quindi Riuscirà ad arrivare a quello Perché salterà sulla sabbia E poi togliamo la sabbia Ok Fatto Adesso toglimi la sabbia Così almeno Adesso il prossimo anno che passa Dovrebbe toglimi la sabbia Così almeno abbiamo Lo spazio per mettere Il nostro tavolo Intanto fatemi craftare Un altro tipo di torcia Che si fa con le ossa E con lo slime Questa materia che viene Ricavata dalle lumache Quando le uccidiamo Mentre le ossa Dagli scheletri ovviamente Craftiamo Così almeno possiamo avanzare Anche in base a questo Sul crafting tree Allora Adesso intanto Andiamo anche a craftare L'altro tipologia di torce Quelle normali Che dobbiamo metterla qua Per fare un po' più di luce Nel nostro rifugio Così adesso abbiamo anche Lo spazio per mettere il tavolo Lo mettiamo qua Infine metterò il cibo E per oggi Possiamo anche concludere qui Ok L'altro sta portando il tavolo Adesso metteremo Appena mette il tavolo Mettiamo sopra il cibo Diamo da mangiare A qualcuno Ok Fatto il task Ci ha sbloccato Il workbench Che è praticamente Uno strumento Per craftare cose Un po' più complesse Nella prossima puntata Lo metteremo Sicuramente Mettiamo Le mele Anche se non sono Ne cucinate E danno poca Energia Le mettiamo tutte sul tavolo Come vedete Ora non ci rimane Che cercare il nano Che ha più fame Basandoci su queste Fette di pane Che vedete qua Meno ne ha Più vuol dire Che ha fame Quindi Questo qua Mi sembra che sia Quello che ne ha più fame Mi facciamo go eat E lui va a mangiare Ok ragazzi Allora Con il nano Che va a cibarsi Delle nostre mele Che abbiamo messo sul tavolo Io vi ringrazio Di aver visto questo video E ci vediamo alla prossima Ragazzi Ciao